E protesta contro il nuovo ISEE varato dal governo Renzi, stamani i rappresentanti del collettivo universitario hanno manifestato sotto la sede catanese dell'ERSU per chiedere un tavolo tecnico che possa consentire l'apertura di un nuovo bando per le borse di studio. Gli studenti hanno raccolto le firme di oltre mille universitari per reclamare i sussidi scippati dal governo e divenuti inaccessibili almeno al 30% in meno degli eventi diritto, il tutto senza che la situazione economica degli studenti sia cambiata rispetto agli anni precedenti. Oggi abbiamo chiesto al direttore dell'ERSU delle risposte, abbiamo fatto la nostra proposta che è partita sul modello di quella toscana o di quella dell'Emilia Romagna in cui è stato avviato un tavolo tecnico tra studenti, ente regionale per il diritto allo studio e regione in cui sono stati stanziati dei fondi per una borsa parallela, una borsa integrativa che è andata a coprire una parte di coloro che sono rimasti esclusi.